amici di atti sport 24 ben trovati nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino torniamo oggi ad occuparci delle vicende della radinante scamogli formazione ligure che ha vinto il girone nord del campionato di serie 2 e ora si appresta ad affrontare i playoff promozione per farlo è tornato a trovarci il centro vasca della compagine allenata da angelo temellini andrea cuneo ciao andrea bentornato ciao andrea ciao a tutti andrea facciamo un passo indietro e andiamo a sabato scorso la radinante scamogli riscatta il primo capo stagionale in quel di brescia e supera nettamente in casa la comunuto requaro quali sensazioni vi ha lasciato la netta vittoria contro i lombardi ma guarda andrea devo dire che era importante soprattutto reagire alla sconfitta di di breccia che per certi versi ha dato ovviamente fastidio però io la reputo diciamo costruttiva abbiamo avuto una buona reazione col como e niente ora ci prendiamo questo primo posto il girone nord e ci apprestiamo ad essere pronti poi alla fase finale già dalla partita di sabato prossimo col torino e poi successivamente al playoff certo se devi individuare le chiavi su cui la squadra ha costruito la vittoria dove vai a concentrare la tua attenzione io mi permetto una battuta forse è tornato andrea cuneo ma no quello quello no anche perché i miei compagni sono stati molto bravi anche perché hanno vinto tutte le telecampionato le certo una quindi quello direi di no ecco noi settimana abbiamo lavorato tanto dal punto di vista tattico con con il mister abbiamo cercato di limare qualche qualche errore e di migliorare alcuni aspetti dove noi sicuramente in alcuni momenti siamo un po deficitari ecco detto questo ogni vittoria dico che si costruisce dalla dalla difesa poi le qualità per far gol le qualità per per andare a segnare in avanti le abbiamo e quindi diciamo che dalla difesa parte tutto e direi che le qualità per far gol avete un attacco che ha solo l'imbarazzo della scelta per mettere la palla in porta sì devo dire che quest'anno a livello di tiratori di gol abbiamo alzato senza dubbio il livello della squadra ecco abbiamo due centri forti ottimi tiratori ottimi difensori un ottimo portiere seppur giovani quindi devo dire che la squadra è completa dobbiamo solo rimanere tranquilli pensare ora chiudere bene il campionato a torino puoi concentrarci diciamo nella nella fase finale perché poi ci si gioca tutto sostanzialmente in in venti giorni certo avete sicuramente avuto l'opportunità di rianalizzare il match insieme a mister temellini quali sono le riflessioni che avete condiviso durante questo lavoro ma ripeto col mister sono un paio di settimane che stiamo lavorando tanto dal punto di vista dal punto di vista attacco che se riusciamo a essere a rimanere ordinati durante la partita a fare le cose che sappiamo fare diciamo che è difficile batterci siamo consapevoli e senza essere presuntuosi della della nostra forza dobbiamo solo mettere in pratica quello che troviamo eh in settimana rimanendo in più lucidi possibili durante diciamo i momenti topici della partita. Vado un attimo sul personale sei tornato dopo qualche mese di assenza e in questa nuova rarinante Scamogli mi permetto di dire che forse insieme a Capitan Beggiato insieme a Giovanni Bianco sei l'icona del nucleo storico del DNA Camoglino come si trasmette il DNA ai giovani. Ma devo dire che allora la scorsa estate sono nati via un paio di giocatori che facevano un po' parte della vecchia guardia. Ne sono rimasti altri quindi devo dire che a partire anche da da Cambiaso. Comunque siamo rimasti un po' di giocatori diciamo della vecchia guardia abbiamo aggiunto un paio di acquisti. Come si trasmette ai giovani? Noi diciamo più esperti cerchiamo sempre di portare l'esempio sia durante gli allenamenti che durante le partite. Diciamo che abbiamo dei buoni di buoni giovani che riescono a recepire diciamo bene i segnali e prendere gli aspetti positivi. Parlo magari di Barabino, di Morello ma dello stesso portiere Rossi che è giovane e ha ricevuto anche una convocazione nazionale interventi ultimamente. Quindi abbiamo dei buoni giovani e devono lavorare sicuramente e noi cerchiamo sostanzialmente di dargli una mano. Avete già iniziato ad orientare il vostro lavoro in ottica playoff oppure per ora si pensa solo a chiudere la regola season e poi si può allusare il da farsi? Ma devo dire che diciamo che ora stiamo a punto di vista fisico lavorando come devo dire che vedendo anche da fuori i miei compagni hanno lavorato molto quindi sotto quell'aspetto lì siamo siamo molto tranquilli. Io penso che da settimana prossima quindi da lunedì dopo aver chiuso la regola season col Torino ci concentreremo in modo specifico anche perché sui playoff anche perché non sappiamo ancora l'avversario che andremo a incontrare o l'Olympic Roma o la Lazio mi sembra di capire ecco dalla classifica. Certo. E allora da lunedì ci si mette anima e cuore a curare i playoff però prima c'è un big match e io dico ancor più che un big match un grandissimo test match per tutte e due in vista proprio dei playoff vi affrontate la trasferta della monumentale contro la Reale Mutua Torino 81 non c'è in palio niente però sono due grandi squadre che vanno faccia a faccia che match ci aspettiamo? Sicuramente il Torino è una grande squadra diciamo che noi e loro eravamo le squadre sulla carta diciamo da primi posti ecco loro comunque penso che arriveranno secondi direi che la posizione matematica quindi anche per loro sarà un test in vista dei playoff noi sicuramente andremo a Torino per cercare di fare il meglio possibile cercando di magari di evitare di prendere squalifica che penso sia l'aspetto più importante visto che poi le parti successive saranno quelle dei playoff ecco sicuramente sarà un ottimo test in previsione di quelle che saranno le settimane successive ripeto i 20 giorni ci giochiamo tutto Certo. E chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta è una partita importante, un test match in ottica playoff le due squadre che erano favorite per la vittoria finale dove si può decidere questa sfida secondo te? Ma io l'ho già detto prima, ripeto, penso che la nostra forza parte dalla difesa perché poi abbiamo le qualità per fare male davanti se noi riusciamo ad avere la giusta concentrazione, la giusta determinazione specialmente nella fase difensiva e concedere non oltre i 7-8 gol io penso che la partita la possiamo portare a casa detto questo cercheremo di fare il meglio possibile ripeto, cercando di non cadere in sciocchezze, qualifiche, espulsioni e cose varie che è forse l'aspetto più importante Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata ringrazio Andrea Cuneo per la sua disponibilità tuo appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata Ciao Andrea, grazie Grazie Andrea, grazie a tutti